Musica Sul bacino del Mediterraneo occidentale persiste un promontore africano che garantisce tempo in prevalenza stabile, assenza di precipitazioni e temperature decisamente superiori alle medie del periodo. In Toscana, mercoledì 4 ottobre, cielo in prevalenza sereno poco ungoloso, venti deboli occidentali, mari poco mossi, temperature in lieve calo ma con valori ancora superiori alle medie del periodo. Anche sul territorio provinciale tempo stabile, a Lucca e sulla Piana temperatura minima 15, massima 26 gradi, a Castelnuovo Garfagnane zone montane minima 13, massima 24, a Viareggio e sul litorale minima 16, massima 25 gradi. Giovedì situazione pressoché stazionaria.